cercate l'europa sul tuo play store o apple store e scarica la nostra app Ben ritrovati, ben ritrovati in questa bella sala della musica, siamo a Villa Rendano per Dialogoi oggi ci occuperemo di un problema sentito, di un problema che coinvolge tutti i piccoli centri e i grandi centri della Calabria parliamo dei borghi antichi che si stanno spopolando, sono notizie davvero di pochi giorni fa demoscopica con un censimento addetto, ha lanciato l'allarme, sono ben 189 mila i giovani che lasciano la nostra regione cosa succede? I sindaci, i comuni assistono a volte davvero senza armi a questo spopolamento e a centri storici che diventano sempre più borghi fantasma, sempre più spopolati si può cambiare, si può fermare questo processo e poi ancora il bando dei borghi di cui tanto parla la regione Calabria, è un bando diretto chiaramente a tanti comuni a cui possono partecipare anche le imprese locali riuscirà a dare la svolta sperata. A queste e a tante altre domande risponderemo in questa trasmissione, lo faremo con degli ospiti studio ringrazio per essere con noi il sindaco di Tarsia Roberto Ameruso, grazie per essere con noi anche a Luigi Orsino che è presidente della cooperativa Caster, gestione museo civico e il sindaco di Cetraro, Angelo Aita abbiamo voluto un comune diciamo dell'entroterra e un comune costiero per capire se i problemi sono gli stessi come si attrezzano per contrastare la decadenza e se il turismo può essere volano di sviluppo cominciamo da lei sindaco Ameruso perché Tarsia sta portando avanti una iniziativa originale quella cioè di mettere in vendita nel centro storico le case abbandonate ad un euro è da un po' di tempo che avete messo su internet questo annuncio, in quanti hanno risposto? Come sta andando? Sì, intanto grazie dell'invito e complimenti per aver toccato un tema così sensibile e così importante per la nostra regione e penso per il nostro meridione intero noi abbiamo seguito una linea ormai da anni stiamo vedendo un po' quelli che sono i temi il tema dei temi in questo caso è appunto quello della presenza cercare di tenere sotto il profilo demografico far sì che la nostra cittadina insomma non si spopoli quello che è successo purtroppo negli anni delle grandi emigrazioni dagli anni 50 al dopoguerra in poi oggi si vede plasticamente nei nostri centri storici quindi centri storici tendenzialmente abbandonati e che a dispetto di quello che è proprio la denominazione centro storico hanno perso proprio la caratteristica principale, la centralità sono ormai diventate le periferie degradate questo è il punto su cui credo che gli amministratori, la politica debba intervenire chiaramente con pochissimi mezzi allora si deve far ricorso alla fantasia, alle idee e questa idea appunto guarda appunto a come risolvere questo problema il problema del degrado, il problema dello spopolamento qui hanno risposto alla vostra idea delle case in vendita qualcuno ha comprato, sono delle persone del posto, arrivano da fuori qual è l'idea che vi siete fatta? Allora, noi appena abbiamo lanciato quest'idea devo dire la verità, con grande sorpresa tantissime persone anche da fuori e anche da fuori dalla nostra nazione molti parenti di emigrati si sono interessati a questa iniziativa questa iniziativa adesso ha preso corpo è diventata, è già stata, voglio dire fatta una delibera di consiglio nel luglio scorso e adesso sono state censite e in questi giorni saranno messe sul nostro sito web tutte le abitazioni con le caratteristiche e lo stato in cui si trovano e poi noi cosa faremo? di fatti andremo a fare una richiesta formale a coloro che risultano proprietari o possessori di questi immobili di mettere in sicurezza perché si tratta appunto di immobili abbandonati di mettere in sicurezza questi immobili se a questa richiesta non verrà data risposta nei termini indicati nel provvedimento il comune ha facoltà di acquisirli al patrimonio comunale Tarsia è un comune di circa 2000 abitanti quante case abbandonate ci sono? al momento ne abbiamo censite 19 però il numero aumenterà perché comunque queste sono la prima fase diciamo le prime quelle che risultano essere veramente in un cattivo stato di conservazione o comunque hanno delle problematiche tali da richiedere immediatamente appunto un intervento quindi l'idea è vendere la casa ad un euro chiaramente chi la comprerà si farà carico della ristrutturazione avrà tasse agevolate? allora noi sull'aspetto della tassazione ancora non siamo intervenuti il punto centrale è questo coloro che vorranno acquistare questo immobile si obbligheranno alla ristrutturazione solo alla ristrutturazione eseguita ci sarà l'atto di cessione quindi diventerà di fatto proprietario ci sarà prima un'assegnazione provvisoria con i termini previsti dal contratto appunto entro i quali dovranno essere eseguiti i lavori il progetto chiaramente lo farà colui che intende acquisirla e quindi nei tempi indicati da progetto alla fine dell'esecuzione dei lavori ci sarà appunto la assegnazione definitiva e quindi di fatto diventerà proprietario dell'immobile quindi è un iter in corso sindaco Aita chiaramente c'è trato una realtà diversa di abitanti se ne contano più di 10.000 secondo lei intanto questa idea di Tarsia per rivitalizzare il centro storico è un'idea valida è un'idea percorribile voi la adottereste avete lo stesso problema o come dire essendo un paese di mare le problematiche sono diverse la gente torna d'estate perché sappiamo che i paesi di mare poi come dire si raddoppiano gli abitanti nei mesi estivi allora è un'idea per voi insomma non adatta? No partiamo dal concetto che tutti i nostri i nostri centri storici comunque della Calabria stanno subendo un processo di spopolamento per chi va fuori o chi si trasferisce comunque all'interno delle nostre realtà in luoghi in luoghi diversi rispetto ai vecchi centri storici c'è un dato di fatto che è incoraggiante il dato di fatto è che si è capito finalmente in Calabria dopo 20 anni 30 anni che si pensava che lo sviluppo dovesse arrivare attraverso non so quale tipo di industria si è capito che lo sviluppo della Calabria è dato dai nostri territori dai nostri luoghi dalla nostra storia dalla nostra tradizione di quello che abbiamo che ci ha dato madre natura che forse noi negli anni abbiamo anche rovinato allora quello che ci ha dato madre natura che ci ha lasciato intatto sono soprattutto i nostri centri storici che hanno avuto questo processo di spopolamento basti pensare insomma il nostro centro storico ha una capacità di accoglienza intorno ai 4.000 abitanti e allo stato attuale ne ha solo 200 le immagini i numeri dicono danno verità non restituiscono foto o molto più di tantissime parole 4.000 disponibilità 200 abitanti quindi c'è anche un'altra riflessione che forse possiamo fare su questi numeri e che forse in Calabria non c'è una carenza abitativa no? no è stato un errore commesso anche nel passato perché nel passato quando si pensava alle nuove edilizie residenziali edilizie popolari si è cercato di dislocare fuori dalle aree urbane questa edilizia per poi farle diventare di nuove aree urbane e questo ha contribuito in maniera determinante a svuotare i nostri centri storici e non si è pensato invece di fare un processo inverso che da qualche anno è iniziato quello invece di recuperare all'interno i nostri centri storici perché il problema dei centri storici adesso che è una fonte di ricchezza e questo l'hanno capito tutte le amministrazioni comunali però il problema è come trasformare poi la risorsa in opportunità è quello di farlo rivivere e i centri storici devono rivivere secondo la modernità dell'innovazione che bisogna raccogliere ma secondo le caratteristiche che sono tipici dei vecchi centri storici che non possono essere e su questo siamo d'accordo perché mi piace il fatto che ci sono due sindaci che riescano a sognare un centro storico vivo pulsante capace anche di innescare dei processi di occupazione però i problemi pratici ci dicono altro lei ha delle case abbandonate nei centri storici dei ruderi l'abbiamo già presso in proprietà come comune noi già dal quarto anno abbiamo fatto un bando c'è chi ha dato in disponibilità gratuita l'immobile lei sa che il comune ha anche difficoltà ad acquisire degli immobili in maniera gratuita perché deve giustificare poi allo Stato alla Corte dei Condi il perché utilizza dei fondi non finalizzati e c'è anche chi ha messo in disponibilità la propria abitazione per attività in genere attraverso canoni concordati anche su questo abbiamo fatto noi delle delibere per canoni concordati sia in affitto sia per attività commerciale per attività turistiche eseguando sia a chi mette in attività per 5 anni in tutti i tributi comunali e sia per chi gli dà in disponibilità le sensione e i pagamenti dei dovuti Imo è quello che serve di tasse comunali quindi la strada è cominciata la strada è cominciata un museo a centrare a chi ha deciso di rimanere e credere in una cooperativa allora Luigi Orsino com'è nata questa avventura e l'idea che poi è diventata progetto e realtà operante sul territorio con un museo è riuscita a centrare tutti gli obiettivi e quindi dare nuova limpa al centro storico e occupazione Sì io in pratica sono un po' testimone effettivamente di questa esperienza esperienza che è maturata grazie alla realizzazione di un progetto che visto appunto partner il comune di Cedraro e la cooperativa Castel di cui sono appunto presidente e che ha avuto una continuità nel tempo un progetto che è stato implementato attraverso la condivisione di investimenti anche in termini non solo economici diciamo ma anche proprio in termini di risorse e questo ha permesso di creare appunto occupazione e Quante persone lavorate in cooperativa? La cooperativa è formata da nove soci all'interno diciamo che lavorano sei ragazzi sei soci sono diciamo impiegati all'interno della struttura e delle attività annesse perché poi i numeri come dicevamo prima sono importanti si può fare questo è il messaggio che vogliamo lanciare certo e ovviamente individuare quelle che sono poi le attività e servizi che servono per valorizzare soprattutto i centri storici nel nostro caso siamo partiti da quella che è appunto l'attivazione dei servizi di accoglienza e allo stesso tempo di gestione di quelle che sono le strutture appunto storiche e le bellezze storiche Cetraro partendo dal sistema museale locale perché per quanto diciamo un centro piuttosto diciamo piccolo Cetraro consta di tre musei il museo civico appunto che riguarda conserva contenuti di tipo archeologico e storico ed altri invece che riguardano l'aspetto più diciamo tradizionale e culturale che è appunto il museo delle arte e dei mestieri e il museo del mare quindi attraverso la valorizzazione di questi luoghi che diventano appunto gli attrattori principali riusciamo anche a riqualificare effettivamente a far vivere in maniera anche dinamica quella che è il centro storico con i flussi che appunto di turisti o comunque di visitatori che andiamo a gestire mi piace anche capire e restituire anche ai telespettatori che molte volte noi calabresi viviamo in una terra a noi sconosciuta mi piace restituire anche un altro numero quello dei visitatori che nel corso dell'estate e del tempo si avvicinano ai vostri musei sono cresciuti da quando la cooperativa ha gestito ha cominciato a gestire questi servizi o no e quali sono anche le modalità che voi anche di accoglienza o di formazione si c'è stato un incremento ovviamente di quelli che sono i flussi insomma di visitatori tra l'altro abbiamo anche l'ufficio sul porto per l'accoglienza dei diportisti il porto per noi rappresenta una notevole risorsa in termini anche turistici e i servizi sono appunto quelli di collegamento tra quelle che sono poi le strutture appunto quella portuale ai musei finalizzata a quella che è appunto la visita del centro storico e le conoscenze dei suoi contenuti ed è questo l'impatto appunto che i turisti hanno nel momento in cui arrivano a Cedraro quello di essere appunto accolti e guidati nel quello che è poi il percorso storico e quindi la conoscenza storica del luogo forse per un paese di mare questo è più facile sindaco Ameruso per un paese invece più interno anche se Tarsia ha un valore aggiunto e mi riferisco al campo di Ferramonti che è conosciuto a livello internazionale il turismo sembra essere la chiave di volta per tutti i centri storici e soprattutto la chiave di volta nella filosofia che anima il bando dei borghi voluta dalla regione lei pensa che sia possibile incarnare proprio questo bando e far sì che i turisti arrivino e sostino in tutti i piccoli centri assolutamente sì questo bando credo che sia stato strutturato in modo insomma assolutamente positivo perché comunque non si va più nell'ottica di finanziare l'opera singola o il finanziamento cosiddetto a pioggia ma si va a fare un discorso di mettere insieme tutte quelle che sono le anime che poi devono dare appunto vita a quello che è un progetto che sia sostenibile di turismo e quindi dall'associazionismo voi avete partecipato? sì sì noi abbiamo partecipato su cosa avete puntato sul territorio? noi abbiamo puntato su tutti quelli che sono i tasselli mancanti quegli anelli mancanti appunto a far sì che il turista faccia un esempio pratico noi abbiamo su Ferramonti sull'ex campo di concentramento oltre 20.000 persone all'anno che vengono a visitare questo sito così importante però poi riscontriamo la difficoltà a far venire su a vedere il borgo insomma questo bellissimo centro storico e non solo c'è anche la riserva naturalistica del lago di Tarsia quindi abbiamo questa difficoltà a coniugare a mettere insieme queste diverse realtà in modo tale che si offra al turista la possibilità di permanere di più e di visitare dei luoghi comunque pregevoli importantissimi sotto il profilo ambientale ma anche sotto il profilo storico culturale ecco quindi questi tasselli mancanti li abbiamo inseriti appunto in questo bando con la mobilità per esempio consentendo al turista di venire a Ferramonti visitare Ferramonti una visita comunque anche corposa di circa tre ore poi andare alla riserva naturalistica anche lì abbiamo un museo un museo dei diorami una gestione eccellente un polo veramente d'eccellenza perché non solo dal punto di vista museale ma anche dal punto di vista culturale con la biblioteca naturalistica calabrese che poi è allocata in un palazzo storico nel centro storico appunto quindi abbiamo la possibilità ecco di offrire al turista una giornata ma anche di più perché insomma approfittando di quelle che sono poi le offerte turistiche anche nell'entroterra perché questo poi è quello che bisognerà fare la fase 2 quello di creare appunto la rete tra i comuni e non solo con le associazioni in modo tale che tutto un comprensorio possa avere ecco i benefici di quella che è la visita di un turista quanti posti di lavoro nel piano prevede questo progetto? noi abbiamo calcolato che tutto l'indotto potrebbe arrivare a circa 15-20 posti di lavoro tra guide turistiche e addetti comunque alla mobilità abbiamo fatto questo calcolo di circa 15 persone che potrebbero essere chiaramente esclusi i privati che partecipano all'Ater insomma perché come sapete nel bando dei borghi c'è anche proprio uno scorporo di questo bando dedicato ai privati quindi 15-20 posti di lavoro non sono pochi in un paese di 2.000 abitanti Sindaco Aita Cetraro invece chiaramente ha altre priorità essendo un paese di mare però anche voi avete aderito mi pare al bando dei borghi su che cosa puntate e poi un'altra cosa mi preme sottolineare prima il Sindaco parlava di rete no? perché è importante sulla costa non c'è solo Cetraro ci sono più paesi con più tipicità a partire da Paola con il santuario si è capaci di fare rete o ancora ognuno insomma coltiva il proprio orto l'individualismo calabrese purtroppo insomma è noto ed è radicato beh intanto abbiamo vinto una prima scommessa come calabresi quelli che ci siamo resi conti tutto che la chiave di volta come diceva lei prima per poter sviluppare le nostre realtà l'abbiamo intorno a noi e ce ne siamo accorti per molto tempo ora l'altra cosa che abbiamo capito in questi ultimi anni abbiamo capito che anche se ognuno di noi riuscisse ad ottenere il massimo di sviluppo del proprio territorio diventa insufficiente per dare una risposta in termini di turismo reale per cui noi siamo uno ed è importante ma non è sufficiente per poter dare alla Calabria i risultati che otteniamo per cui l'idea che dobbiamo metterci in rete per le tipicità che abbiamo perché è vero che ognuno di noi ha i centri storici e ce ne sono tantissimi centri storici è vero che ognuno di noi ha dei borghi differenziati perché ci sono poi anche i borghi rurali che sono altrettanto belli come i centri storici e tutto si deve mettere in rete è anche vero che c'è qualcosa che accomuna culturalmente dal punto di vista anche comportamentale il Calabrese in termini di accoglienza spontanea che è un'altra risorsa che mettiamo a disposizione però a fianco a questo è anche vero che se non riusciamo a dialogare e a mettere in campo tra i vari centri storici le differenze che ci sono state anche nel passato di influenze storiche che hanno caratterizzato a distanza anche di 15-20 km due realtà completamente diverse con tradizioni diverse che a passione noi ce ne siamo resi conto negli ultimi anni ce ne siamo resi conto proprio attraverso la nostra struttura portuale che ci ha dato la possibilità di poter avere migliaia di diportisti soprattutto che vengono dal mondo dall'estero che si fermano e la prima cosa che ci chiedono è che vogliono visitare i centri storici e la bellezza dei centri storici ce lo vengono loro e rimangono giorni in più sulla nostra struttura proprio per la bellezza dei nostri luoghi sì c'è uno storytelling è questa l'idea o no? è comunque lo sforzo che si cerca di fare in Calabria è lo sforzo perché spesso la nostra regione è etichettata solo con il malaffare con l'andrangheta non vogliamo dire che questa cosa non esiste però c'è uno storytelling positivo che dobbiamo veicolare forse questa è l'opportunità per farlo è l'intervento che è messo in campo la regione Calabria con 100 milioni di euro per la parte pubblica e 30 milioni di euro per gli investimenti dei privati credo che sia l'investimento il più grande che si abbia fatto la Calabria ed è solo una decima parte perché secondo noi ci vorrebbe un miliardo da mettere qui sopra e su queste cifre noi ci fermiamo perché c'è la pubblicità un miliardo per recuperare l'intero patrimonio dice il sindaco che chiaramente come amministratore locale conosce da vicino il patrimonio che ha e chiaramente quello degli altri comuni restate con noi cercate l'Europa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app seconda parte della nostra trasmissione ve lo ricordo dialogoi incontri a Villa Rennano ci stiamo occupando dei centri storici dei nostri paesi arroccati incastonati tra i monti tra le colline paesi che si affacciano sul mare una ricchezza della Calabria purtroppo poco sfruttata oggi pare ci sia un'inversione di tendenza ve la stiamo raccontando con le iniziative dei sindaci e con l'entusiasmo dei giovani che comunque scommettono tanti sono andati via altri però hanno deciso di restare come Luigi Orsino lui è di Cetraro il presidente della cooperativa Caster nella prima parte vi abbiamo fatto sentire proprio dalla sua voce le attività la gestione dei musei quello che vorrei invece sapere questa vostra attività che necessita comunque di formazione di conoscenza perché il turismo non si improvvisa e questa è la prima regola che deve sapere chi vuole fare il turismo attrae anche altri ragazzi c'è proprio alla luce anche del bando sui borghi altre realtà giovanili che hanno deciso di scommettere valorizzando il patrimonio beh diciamo che la nostra esperienza è diventata un po' un modello di riferimento appunto per quella che può essere diciamo il discorso occupazionale e noi abbiamo come cooperativa abbiamo anche partecipato al bando appunto nell'ambito indirizzato alle imprese e in effetti questo è diciamo quello dei bandi è la possibilità che viene data alle imprese nascenti e in effetti si ha la possibilità di poter poi dare continuità anche a quelle che sono le attività già in essere e una losta nello specifico prevede anche quella che è l'ampliamento dei servizi e dell'offerta appunto turistica che noi abbiamo già diciamo realizzato e questo significa oltre ai musei voi puntate a cosa esattamente quella che è poi l'attivazione di servizi che servono appunto per far conoscere quindi rendere fruibili ovviamente quelle che sono che sono le nostre bellezze no perché questo è importante quello che lei sta dicendo è molto importante perché spesso abbiamo visto i turisti arrivare e poi non sapere dove devono dirigersi non c'è una guida che gli possa spiegare che cosa vedono insomma è sempre molto improvvisato è un turismo da scoperta il nostro più che da guida no e così si comprende sempre solo una parte del territorio sì all'interno della cooperativa noi tra l'altro abbiamo creato una sorta di intreccio di competenze e di figure appunto qualificate esperte come appunto quella di accompagnatore turistico oppure altre che si occupano invece proprio di accoglienza o appunto delle visite guidate e quindi giovani che hanno acquisito queste conoscenze questa formazione e il tutto serve appunto a qualificare poi i servizi e si parlava prima di rete noi siamo anche all'interno del circuito legato ai sistemi al sistema museale regionale e che ha permesso di creare tra l'altro intanto uniformare quella che è la professionalità nel campo appunto dei beni culturali in questo caso e di creare anche strutturare degli itinerari ad esempio quello che da Tortora poi arriva fino a Paola che può essere tematico quindi come nel caso dei musei archeologici oppure l'itinerario dedicato appunto al tema religioso quindi legato al santuario di Paola tutto questo ha fatto sì che avvenisse appunto una sorta di dialogo di intese tra quelle che sono appunto le imprese che sono un po' appunto protagonisti di questi servizi e molto spesso anche quella che è l'ente pubblico quindi i comuni si sta lavorando in questa direzione quella appunto di cercare di uniformare anche un po' il modo di valorizzare appunto le aree dei centri storici certo mi viene in mente anche una frase di Corrado Alvaro spesso Corrado Alvaro diceva che ai calabresi i calabresi vogliono essere parlati non come a dire hanno bisogno che tu gli racconti le cose sindaco Ameruso per dire che molti turisti arrivano fuori dalla nostra regione più che dalla Calabria stessa eppure come diceva prima il sindaco insomma un paese è differente dall'altro per storia per tradizioni per modelli anche culinari a volte no quindi la prima scoperta dovrebbe partire dalla Calabria si può fare o questo è ancora più complicato si fa è partito questo processo di riavvicinamento prima tra le nostre province tra i paesi anche vicini credo che sia assolutamente iniziato sì questo processo è iniziato e spero possa far vedere i suoi frutti nel più breve tempo possibile la Calabria ha bisogno di questo la Calabria ha bisogno di essere prima di tutto rivalutata dagli stessi calabresi le nostre ricchezze faccio fatica veramente soltanto a immaginare quale quale futuro possa avere la nostra regione se tutte le nostre ricchezze dall'enogastronomia al nostro paesaggio al nostro clima io ho ricevuto una telefonata di una signora del Veneto che era interessata all'acquisto di un'abitazione la quale mi ha fatto pensare dicendo voi avete dieci gradi di temperatura in più e questo è un dato così importante ma per chi è fuori noi questo dato dovremmo averlo presente così come tanti altri questo è il punto allora noi dobbiamo prima di tutto acquisire consapevolezza lo stiamo già facendo io credo che le giovani generazioni e non solo ci sia stata una sorta di rivoluzione copernicana in questo questo è avvenuto nella nostra regione sta avvenendo e ripeto si stanno già iniziando a vedere i primi risultati bisogna continuare su questa strada non credo che vi siano altre strade bisogna concentrare tutte le energie su questa su questa direttrice e credo che arriveranno ben presto perché ripeto i nostri prodotti adesso iniziano a essere prodotti d'eccellenza ma non perché lo diciamo noi ma perché lo dicono lo iniziano a dire anche altri quindi i mercati che sono i mercati che sono quelli che fanno testo no? benissimo quindi bisogna continuare su questa strada io credo che la strada si stia percorrendo in modo abbastanza positivo su questo su questo piano sì sindaco Ita è vero che c'è questa di risveglio chiamiamolo così dei centri storici o è solo una moda dettata un po' da questa anche linea politica dei bandi sui borghi che quindi coinvolge ed è solo un movimento di palazzo e non di piazza no no è un risveglio è un risveglio tardivo ci siamo accorti noi tardi perché dall'altra parte quando noi andiamo in viaggio e facciamo noi i turisti io vado in giro e vado a visitare le bellezze che hanno le altre realtà non ci siamo accorti che le bellezze avevamo noi è semplicemente questo e siccome noi siamo pieni di bellezze non solo storiche ma bellezze naturali da visitare c'è un problema di fondo il problema di fondo è che siamo tante piccole realtà qui nella nostra Calabria che hanno bisogno di essere interconnesse fra di loro e il problema dell'interconnessione quindi della mobilità è un problema che è stato anch'esso affrontato dalla regione Calabria e non solo c'è un problema di interconnessione ma anche c'è un problema che rete significa che all'interno della mia realtà mettere le vetrine delle realtà vicine per essere come dire accompagnati in un processo in un percorso in un percorso turistico che non si assolve con la presenza sola all'interno della mia città me lo spiega come si fa ad arrivare ad esempio dall'aeroporto di La Mezzia a Cetraro c'è un collegamento diretto? Devono creare il collegamento diretto allo stato attuale c'è solo su lotaie i bus che vanno in collegamento diretto io credo che ci voglia invece qualcosa di superficie una metro ecco una metro sul terreno cosentino che possa avvicinare le distanze tra l'aeroporto e i nostri territori credo che sia importante e cosa ancora più importante i collegamenti fra territorio e territorio che sono completamente assente l'altra idea che si qui è una rivoluzione copernicana e su questo bisogna ringraziare il governo regionale e il suo presidente e aver intuito che i comuni i comuni sono quelli che devono svolgere un ruolo da protagonista la governance cioè che i comuni si possano occupare di sviluppo reale del proprio territorio e prendere per mano e guidare il percorso anche dei giovani per rimanere e dire c'è la possibilità attraverso i percorsi di studio che avete fatto e l'innovazione far esplodere dal punto di vista turistico i nostri territori e quindi far rimanere i nostri ragazzi qua ecco ha messo in condizione e i comuni che è giusto che sia così che gestiscono questa governance del piano di sviluppo in modo tale che possa essere reale credibile e possa agli occhi delle nostre nuove generazioni essere un punto di riferimento è cambiato su questo il ruolo che hanno i comuni che non devono semplicemente come dire costruire la città materiale mettere in condizione lì ma preoccuparsi che a fianco a questo bisogna creare un substrato dal punto di vista culturale dal punto di vista l'accompagnamento per la ricerca dei fondi insomma c'è un processo in atto che non è facile è abbastanza difficile e noi speriamo che questo processo in atto arrivi a conclusione arrivi veramente a centrare l'obiettivo che è quello non solo di rivitalizzare i centri storici creare occupazione riportare anche attraverso un giusto sistema di trasporto i turisti portarli nei luoghi e viceversa perché altrimenti il rischio è di creare bellissimi centri storici però dei luoghi irraggiungibili noi chiaramente poi fra qualche tempo andremo a fare dei bilanci speriamo che tutte queste belle speranze diventino bellissime realtà e che la Calabria vi potremmo raccontare una Calabria diversa da quella di oggi vi lasciamo con delle schede perché quello che vi hanno raccontato il sindaco di Tarsia il sindaco di Cetraro non è dissimile ad esempio nelle zone interne a San Giovanni in Fiore per esempio si punta molto a valorizzare la figura di Gioacchino da Fiore per creare economia per far sì che un paese in cui si vive a mille metri di altitudine l'unico in Europa non resti insomma un paese fantasma in un altro centro nel Pollino un mormanno interessato dal terremoto c'è una grande voglia di ricominciare c'è il processo della ricostruzione e anche lì si punta sul turismo per sottolineare l'identità insomma c'è una grande vivacità in Calabria la seguiremo grazie per essere stati con noi voglio ringraziare oltre ai nostri ospiti anche i nostri operatori Enzo Leonetti Mario Scarpelli Luca Chito in regia vi auguriamo un buon proseguimento siamo a mormanno 3.000 abitanti circa nel cuore del parco del Pollino il sindaco Giuseppe Regina questo paese nel 2012 è stato interessato da un forte sisma sono in corso i lavori di ricostruzione a che punto siamo? siamo a 40% diciamo nel 2012 come ricordavi purtroppo abbiamo avuto questa forte scossa di terremoto che ha messo un po' a repentaglio il futuro di questa comunità però per fortuna questa comunità è compatta è riuscita a realizzarsi a guardare avanti ad ottenere quelle che erano risorse per la ricostruzione e adesso come potete vedere stiamo ricostruendo abbiamo già iniziato a segnare i lotti più grossi voglio ricordarvi solo che i primi 12 interventi sono partiti da gennaio ho firmato già personalmente una decina di ordinanze di rientro e noi ci fermeremo finché tutti gli 80 cittadini di Mormanno non saranno rientrati nelle proprie abitazioni a quanto ammontano le risorse per la ricostruzione? allora le risorse stanziate per la ricostruzione nella legge di stabilità 2014-2015 ammontavano a 15 milioni di euro sono state soggette un taglio lineare di circa un milione e mezzo quindi per un totale di 13 milioni circa queste sono state ripartite tra la regione Calabria e la regione Basilicata in base chiaramente ai danni e alle ordinanze di sgombero che hanno state fatte solo Mormanno purtroppo ha avuto molte ordinanze di sgombero e quindi gli interventi sull'ospedale e quant'altro per un totale di circa 8 milioni di euro il centro storico l'abbiamo detto è stato quello più colpito ma la gente sta rientrando perché voi avete anche una mission quella di salvare il centro storico perché il centro storico per voi significa economia il centro storico funzionante significa turisti che arrivano voi volete fortemente salvaguardare l'identità certo per noi il centro storico è il cuore pulsante di questa comunità e da lì dobbiamo ripartire noi abbiamo messo in campo oltre ai lavori chiaramente di ricostruzione anche degli interventi di riqualificazione nel nostro centro storico poi ci entreremo magari nel merito che abbiamo partecipato al bando della regione Calabria per la valorizzazione dei borghi della Calabria e quindi ci candidiamo ad essere anche uno dei borghi più belli della Calabria sempre l'ultima domanda per quanto concerne proprio il lavoro legato a Mormanno perché il problema anche dei centri storici che restano vuoti deriva dal fatto che i ragazzi vanno via anche Mormanno ha questo problema quanta gente è andata via cosa fate per trattenere sì Mormanno come tutti i piccoli comuni soffre questo spopolamento dovuto appunto come ricordavi alla mancanza di lavoro noi qualsiasi occasione la sfruttiamo appunto per creare occupazione all'interno del nostro territorio anche sui lavori del sisma noi insieme alle sindacali abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa che va proprio a salvaguardare la mano d'opera e le forniture locali perché abbiamo tante amministranze specializzate ed è giusto che trovino occupazione in questi lavori Mormanno è uno dei paesi che vuole rivivere riparte dalla sua identità anche identità di cultura identità economia che è un'economia povera ma che ha un suo mercato ecco perché sei ragazzi hanno costituito una cooperativa Teresa Maradei è presidente intanto com'è nata l'idea? è nata questa idea da una sperimentazione che abbiamo fatto nel 2017 ovvero abbiamo cominciato a coltivare il fagiolo poverello bianco abbiamo visto che poteva avere un mercato lo abbiamo completamente esaurito abbiamo completamente esaurito quella che era la produzione del 2017 per cui abbiamo pensato di costituirci come una vera e propria identità economica di questo paese a marzo 2018 ci siamo costituiti come cooperativa agricola ne fanno parte oltre a quattro ragazzi che fanno altro di professione dall'agronomo al designer due aziende agricole già presenti sul territorio il campo di Venere e il giardino d'Europa da questo diciamo con queste due aziende agricole siamo riusciti a coltivare più più terreni per arrivare ad una produzione che oggi ci permette di presentarci al mercato sì locale quello di Mormanno e dintorni ma di poter avere anche una visibilità su un sito su un e-commerce quindi far conoscere i nostri prodotti agricoli il nostro prodotto di punta il fagiolo poverello bianco anche a livello regionale ma diciamo anche a livello nazionale il nostro prodotto è apprezzato anche da parecchi ristoratori che ce ne hanno fatto richiesta ad altri ci stiamo presentando noi perché vogliamo proporci a questa terra vogliamo proporci a questi ristoratori affinché una coltivazione possa rappresentare il volano economico che possa far ripartire questo centro di Mormanno pochi mesi però tanto entusiasmo i mercati come vi hanno accolto? i mercati ci hanno accolto abbastanza bene devo dire che sin dall'inizio abbiamo cercato anche noi con la comunicazione che è stata fatta tramite i social piuttosto che con la pubblicità ci sta ritornando tutto il lavoro che abbiamo fatto in questi mesi in richieste più disparate ripeto dal ristoratore che vuole a tutti i costi il nostro prodotto nel suo ristorante ma anche al negoziante che vuole il pacchetto con del fagiolo poverello bianco firmato Pollino Food Experience quindi l'economia può ripartire da esperienze come la vostra? assolutamente sì noi ci crediamo ci stiamo investendo e penso che piano piano cioè cominciando da un singolo prodotto si possa fare davvero una bella produzione di prodotti agricoli affinché questo territorio possa ripartire in via Santa Caterina in questo stabile che è ormai quasi pronto per essere riconsegnato ci sono i solai come insomma è visibile già pronti lavora la ditta di Carmine Sola diciamo intanto voi avete voluto solo mano d'opera di Mormanno sicuramente solo mano d'opera di Mormanno quindi quante persone lavorano per la ricostruzione nella sua impresa? da noi sono otto persone e non solo la mano d'opera anche i materiali il 90% viene acquistato tutta a Mormanno quindi è stata un'occasione anche per far ripartire l'economia di questo piccolo paese che è questo piccolo borgo che siamo noi dove viviamo a che punto sono adesso i lavori quanto vi resta per completare proprio diciamo la consegna dei lavori stessi? allora noi siamo all'80% dei lavori ci restano solo le rifiniture che penso nell'arco di 60 o 70 giorni consegneremo tutta l'opera tempi rispettati? sì anche qualcosa prima dei tempi questa è la chiesa di Santa Filomena che è stata gravemente danneggiata dal terremoto siete stati costretti a una demolizione non è il solo edificio in queste condizioni l'ingegnere Emilio Mastro Reanni che è il responsabile dell'ufficio tecnico del comune quanti edifici avete demolito quanti ne restano ancora da demolire perché il lavoro è abbastanza gravoso la chiesa fu demolita diciamo subito quasi subito dopo il sisma in quanto era in una condizione statica veramente compromessa non c'era nessuna possibilità di recuperarla ad oggi si procederà invece con la ricostruzione nell'ambito di questi programmi a demolire alcuni edifici che obiettivamente invece non sono così compromessi ma comunque il costo di riparazione di questi edifici sarebbe notevolmente superiore a una demolizione ma anche in considerazione del fatto che comunque poi le aree dove sorgono questi edifici saranno sistemati per fare delle aree di protezione civile di ammassamento della popolazione quindi delle aree di emergenza in caso di ulteriori scosse sismiche o altre emergenze la popolazione era come dire in qualche modo già preparata a quello che poi è successo preparate non si è mai forse però giustamente c'è stato uno sciame sismico molto molto lungo e ovviamente eravamo abituati più che preparati brutto dirlo per quanto riguarda invece questi edifici che saranno demoliti ecco anche con i proprietari che soluzioni avete trovato per la ricollocazione allora praticamente abbiamo comunque raggiunto un accordo con i proprietari mediante il quale loro hanno ceduto a noi questi immobili cedono a noi questi immobili in cambio di un compenso economico così come previsto dalla legge regionale che ha disciplinato la materia della ricostruzione loro hanno trovato per loro conto delle nuove collocazioni e noi faremo queste opere per garantire la sicurezza all'interno dell'abitato dove non ci sono spazi e dove ovviamente sarebbe costato troppo ricostruire questi immobili il turismo per un paese come Mormano incastonato tra i monti del Pollino è sicuramente quello il volano per l'economia del territorio l'amministrazione come lo valorizzerà soprattutto voi avete scelto una strada ben precisa che è quella del bando dei borghi assolutamente sì noi sappiamo che il turismo è uno di quei settori insieme all'agricoltura che può essere trainante per la crescita delle comunità quindi per lo sviluppo economico locale abbiamo risposto al bando sui borghi con un investimento di 1,5 milioni di euro andando a riqualificare una zona ben precisa del nostro borgo che era una zona tra virgolette la più degradata la più abbandonata l'abbiamo fatta apposta per dare non soltanto creare un valore aggiunto ma cercare anche di ripopolarla ripopolarla attraverso non soltanto un'apertura di un albergo diffuso ma anche attraverso l'apertura delle botteghe riprendendo quelli che erano i vecchi mestieri i mestieri di una volta che purtroppo si sono persi non c'è stato il passaggio di testimoni alle nuove generazioni vogliamo fare questo perché crediamo che il turismo insieme a tutti gli eventi che mormanno organizza l'estate ma anche l'inverno una su tutte la festa di Perciavut il 7 di dicembre possa rappresentare un volano come diceva lei di crescita per questo territorio anche perché siamo incastonati siamo nel cuore del Parco Nazionale del Pollino patrimonio UNESCO Geoparco che naturalmente ci dà un biglietto da visita da utilizzare da sfruttare anche voglio ricordarlo noi siamo all'interno del Parco Nazionale più grande d'Europa dove ogni anno c'è un incremento sempre dei flussi turistici naturalmente mormanno deve attrarre questo questo non basterà sicuramente è inutile negarlo bisogna anche attivare non soltanto l'intervento pubblico ma la creazione anche di tutte piccole e micro imprese private che stanno nascendo per fortuna anche giovani imprese private che con un'intrapresa pubblico privato possono favorire la crescita di questa comunità di questo territorio San Giovanni in Fiore capitale della Sila circa 18.000 abitanti molti però sono all'estero c'è questo andare e tornare l'emigrazione è un vostro punto debole eppure si sta cercando di rilanciare attraverso quali percorsi sindaco? Sicuramente noi siamo la capitale della Sila ma anche la capitale dell'emigrazione noi nel corso degli anni abbiamo perso tanti sangiovanesi che per l'endemica mancanza di lavoro hanno lasciato questa splendida città nonostante tutto siamo ancora circa 18.000 abitanti e stiamo cercando in tutti i modi di rilanciare questo nostro borgo e lo stiamo facendo presentando progetti rilanciando questa comunità non è sempre facile per via di burocrazie varie ma come dire stiamo portando molti risultati a nostro favore quindi io credo che ci sono tutte le condizioni perché i sangiovanesi sono testa dura per crescere e far ripartire San Giovanni in Fiore c'è un ambasciatore possiamo definirlo così di San Giovanni in Fiore che è sicuramente Gioacchino da Fiore l'abbazia in cui ci troviamo è la sua casa quindi è una è una testimonianza ed è un punto di riferimento anche per i turisti però San Giovanni è conosciuta anche per l'arte orafa per la tessitura questo patrimonio perché finora non è riuscito ad essere volano di sviluppo e come invece si incrementerà per farlo diventare volano di sviluppo beh intanto davvero Gioacchino rappresenta come dire San Giovanni in Fiore il nostro come dire fondatore colui il quale come dire ha dato il via alla nascita di San Giovanni in Fiore noi siamo nella sua casa in questa splendida abbazia che ci auguriamo molto spesso possa essere visitata da tanti turisti per la verità lo stanno già facendo stiamo rilanciando è vero arte orafa tessitura ma anche di un'agricoltura sostenibile sono tutte cose che fino a qualche anno fa erano come dire sotto sviluppate adesso anche grazie a molti giovani che stanno creando impresa io credo possiamo rilanciare questa nostra città non è facile perché vivere a mille metri di altitudine è sempre un'impresa difficile ardua però ci dobbiamo credere e dobbiamo fare in modo che questa città non si spovoli più abbiamo perso tante vite umane nei lavori fuori Italia nella stessa Italia e quindi non ne vogliamo perdere più è chiaro che c'è bisogno di una politica seria da parte del governo centrale e dei governi regionali e subcomunali perché un comune per lo più indissesto può fare poco ma se è aiutato e sostenuto e se è messo nelle condizioni io credo possiamo davvero rilanciare San Giovanni Fiore voi contate molto sul bando per i borghi beh non solo è uno dei tanti progetti al quale abbiamo aderito certo quello dei borghi ci potrebbe dare la finale per far crescere davvero questa nostra comunità è un progetto che si interseca tra San Francesco di Paola e Gioacchino da Fiore che è stato sottoscritto insieme ai comuni di Spezzano della Sila e Celico e quindi è un progetto importante ambizioso siamo dinanzi a Casa Lopez questo è uno dei palazzi storici di San Giovanni in Fiore Anna De Simone presidente della Proloco di San Giovanni in Fiore quanto è importante per voi questo patrimonio come la Proloco riesce a tradurlo ai visitatori sì è vero siamo alle spalle troviamo il Palazzo Lopez uno dei palazzi storici della città di San Giovanni in Fiore qui nel 1844 furono di passaggio i fratelli Bandiera quindi per noi è storia è uno dei palazzi che rientra in quei percorsi che ci piacerebbe marcare e tradurre diciamo ai visitatori non abbiamo solo questo di Palazzo Storico ce ne sono tanti altri che costellano un po' tutto il centro abitato urbano antico la Proloco tramite le guide che abbiamo sul territorio si propone di valorizzare di promuovere questo territorio proprio partendo da queste peculiarità ovviamente noi abbiamo l'abbazia che è il nostro fiore all'occhiello ma nel percorso attorno all'abbazia c'è tanta tanta altra storia abbiamo diverse chiese la chiesa madre la chiesa la cona che era una delle prime chiese che si incontrava sul percorso entrando dal Marchesato crotonese abbiamo la chiesa della Nunziatella dove furono seppelliti T6 Miller e T6 compagni di viaggio dei fratelli Bandiera la promozione del territorio è importante e con questo progetto che la Regione Calabria ha bandito diciamo speriamo di rilanciare il nostro centro storico che non è piccolo è un centro storico piuttosto esteso non facilmente gestibile però attraverso le associazioni che svolgono attività in questa città fare rete portare in maniera piuttosto vivibile questo centro il centro storico di San Giovanni in Fiore come tanti altri centri storici della Calabria diventa sempre meno popolato sono soprattutto i giovani ad andare via perché nella capitale della Sila manca il lavoro non è un'eccezione in Calabria allora avete in programma o comunque qual è il vostro progetto se ce l'avete è un progetto per far sì che i giovani restino in Calabria restino a San Giovanni in Fiore e diventino protagonisti di questo patrimonio facendolo fruttare allora un vero e proprio progetto come associazione non c'è però io sono un po' l'incarnazione di questa gioventù nel senso che sono anch'io giovane sono anch'io fuori la Calabria però cerco di rientrare quando posso e quando c'è bisogno di portare la Calabria in alto stendo sempre la mano e cerco di agire in maniera positiva anche perché noi abbiamo tante peculiarità abbiamo un patrimonio artistico culturale storico paesaggistico noi siamo all'interno incastonati tra le montagne della Sila parlo come città di San Giovanni in fiore ma ci sono tanti altri paesi in Calabria bellissimi che purtroppo come dice lei sentono proprio la mancanza dei giovani che vanno via e molto spesso non ritornano quindi io più che voglio fare un invito a questi giovani andate studiate formatevi però ritornate ritornate perché questa Calabria San Giovanni in fiore i centri storici di queste città hanno bisogno del vostro del vostro contributo Gioacchino da Fiore è sicuramente l'anima di San Giovanni in fiore siamo con Riccardo Succurro che è presidente del centro internazionale di studi Gioacchimiti in 40 anni che ruolo ha avuto questo centro nel far conoscere la figura di Gioacchino non solo in Calabria ma nel resto del mondo il centro internazionale di studi Gioacchimiti ha questa grande finalità che è quella della divulgazione della diffusione del pensiero di Gioacchino da Fiore in che modo nel corso di questi 40 anni abbiamo cercato di divulgare e di diffondere il pensiero di Gioacchino attraverso essenzialmente alcune direttrici la prima è l'organizzazione la celebrazione quinquennale di grandi congressi sono dei congressi internazionali dove gli studiosi di tutto il mondo si danno appuntamento a San Giovanni in Fiore nella chiesa Bazziale Florenza per discutere e relazionare su alcune tematiche che vengono individuate vengono pubblicati poi gli atti e questi atti diventano il punto di riferimento per il progresso degli studi della conoscenza su Gioacchino da Fiore accanto a questa opera che è un'opera meritoria perché l'ultimo congresso per esempio ci sono state quattro università americane quattro tedesche Parigi Praga Vienna per dire la diffusione la qualità anche degli studiosi che arrivano qui accanto a questa poi c'è un'altra grande opera che stiamo compiendo che è la pubblicazione delle opere di Gioacchino da Fiore è una edizione critica perché tutti hanno scritto di Gioacchino tutti parlano di Gioacchino la vitalità nel corso di otto secoli testimoni appunto in che modo Gioacchino sia presente però c'era la necessità di capire che cosa Gioacchino ha scritto realmente che cosa ha pensato realmente e questo è possibile attraverso la conoscenza delle fonti e quindi noi stiamo procedendo alla ricognizione della tradizione manoscritta e quindi vengono pubblicate appunto le sue opere l'Abbazia Florenza è punto di riferimento non solo per i residenti ma anche per tanti turisti cosa attrae e perché è unico questa struttura io da diacono vi posso dire che secondo me c'è il mio umile pensiero penso che sia molto importante la figura di Gioacchino da Fiore questa persona che ha dedicato tutta la sua vita per Gesù Cristo quindi penso che alla base ci sia questo poi ovviamente c'è anche tutto quello che riguarda gli studi che vengono fatti su quello che lui ha poi sviluppato e fatto quindi questo io penso che sia la cosa più importante per quanto riguarda proprio la causa di beatificazione che è in corso quanto sarebbe importante riuscire proprio nel far sì che Gioacchino diventasse beato proprio per l'intero territorio perché Gioacchino è il motore quindi diventa non solo trascinatore religioso ma anche motore economico sì ovviamente anche questo potrebbe dare il suo contributo noi io sono arrivato da poco qui a San Giovanni in Fiore stiamo di quello che sto vedendo si sta anche cercando di pregare per Gioacchino da Fiore quindi questa è una cosa che secondo me aiuterebbe anche come diceva lei questo il fatto di far venire ancora sempre più gente per quanto riguarda invece proprio l'opera di Gioacchino perché è così difficile da comprendere io vi parlo da Diagono dovrei essere all'altezza di sapere conoscere tutto quello che lui ha scritto e poi fatto però non sono in grado questo ovviamente ci vuole molta passione principalmente molta dedicazione cioè bisogna dedicare del tempo per riuscire a entrare nel suo pensiero cercate l'Europa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app di Gioacchino per